La moda francese è spesso sinonimo di stravaganza. La provocazione è sempre stata di casa sulle basserelle dei nostri più diretti concorrenti, al punto da far apparire la sobria eleganza italiana un po' triste. Ma la recessione ha colpito anche Parigi, cogliendo i suoi stilisti impreparati. Abbandonate certe frivolezze ormai fuori luogo, ognuno sembra essere andato per la sua strada. Karl Hagerfeld, spirito libero, propone per il prossimo inverno mille divagazioni sulle note caratteristiche dello stile Chanel, filtrandole con la sua solita ironia. Le catene d'oro si fanno d'acciaio brunito come per i carcerati, mentre il nero sembra essere il colore più adatto ai tempi, anche se le nuove penitenti non rinunciano a trasparenze e ampie scollature. Parigi, città cosmopolita, adotta a stilisti tedeschi come l'Agra...